8 mosse per salvare una vita che non sono c'è da salvare c'è da salvare una vita in un altro modo con un sciato e travia come si dice a Milano magari con un suo fumigio magari mi passo un antinfiammatorio ma una manovrina te la facciamo lo stesso non mi fido di te ed è importante anche la settimana europea per la salute cardiovascolare che sarà proprio in questi giorni che si chiama Viva come la tua maglietta per cui tutti in tutta Italia possono partecipare a tutte le iniziative per la settimana europea anche i tedeschi possono magari può succedere qualcosa quindi tu sei in Europa un tedesco non lo lasci lì un bulgaro perché cosa ti ha fatto il tedesco beh qualcosa fa ma danni pastiglie per la gola non so anch'io anche delle pastiglie per la gola europee molto buone quelle con lo zucchero sopra pastiglie tedesche vizzere ma contro i tedeschi non abbiamo niente per supposto grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti